ciao ragazzuali buon natale buon natale come è andata ieri la vigilia ragazzi io è stato l'inferno ho mangiato fino alla una di notte sono andato a letto veramente ragazzi con tutto il cibo sopra lo stomaco vabbè ragazzi come è andata la vigilia di natale avete ricevuto dei bei regali elencatemi tutti sotto nei commenti scrivetemi cosa avete ricevuto non per farmi i cazzi vostri però voglio saperlo ragazzi perché io sono curioso di sapere cosa avete ricevuto perché io sono un curiosone e si sa e si sa e si sa ragazzi oggi siamo qui per annunciare il vincitore del calendario dello sporto appunto ragazzi ieri sera durante la vigilia di natale c'è stata l'estrazione tramite un software quindi un programma ho messo tutti i vostri commenti e mi ha tirato fuori un nome il vincitore del calendario dello sporto 2016 è Andrea invernizzi complimenti ragazzi ad Andrea invernizzi ho visto che ha scelto il gioco fifa 17 quindi bravissimo Andrea hai vinto fifa 17 per playstation 4 quindi ti chiedo se stai guardando questo video se non lo stai guardando comunque ti invierò un email perché ho visto che tu mi hai inviato un email per farmi vedere che condiviso il video su due gruppi ti contatterò via email però se stai guardando il questo video hai già capito che sei tu il vincitore ti contatterò per almeno metterci d'accordo sui dettagli della spedizione così ti potrà inviare fifa 17 complimentoni a tutti gli altri che non hanno vinto ragazzi mi dispiace però grazie di aver partecipato vi voglio augurare ancora un buon natale ragazzi vi ricordo che da domani non ci sarò tutti i giorni perché appunto andrò in vacanza anche io e mi riposerò un po' però tornerò come sempre dal primo gennaio tutti i giorni e durante queste festività ragazzi vi porterò durante la settimana quando meno ve lo aspettate comunque sempre alle ore 15 un vlog che vi faccio vedere tutto quello che faccio durante le mie vacanze di natale quindi vi mostrerò il vlog di quando ho fatto la cena di natale eccetera 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 vi voglio tanto bene passate delle belle vacanze di natale e come sempre il servizio del vostro storto ma non troppo storto anche troppo scemo e sì matto da legare no sì tu sei da denunciare adesso non esagerare